Buongiorno a tutti, uscita organizzata abbastanza al volo, l'appuntamento con Stefano alle 9.20 Andiamo a Casoli, prendiamo un po' di porchetta, famosissima porchetta del Pennese, la strada per andare, molto bella Vediamo un po' se è arrivato, buonasera Siamo arrivati Mamma colore di porchetta, ma che stiamo a scherzare? E qua ora svengo, porchetta calda, abbiamo compratto la porchetta Qui dal Pennese come potete leggere 22 euro al chilo, davvero qualitativa, è uscito pure le sole per fortuna, stiamo tornando a casa Stefano mi stava dicendo che oggi non sta nella piena forma, quindi vado avanti io Ora ci rifacciamo il pezzo che mi piace di più, ossia Casoli me in salita Ho lasciato lo zaino un minimo aperto qui Così almeno la porchetta non si dovrebbe rovinare Riscaldiamo un po' le gomme E da qua dove inizia il pezzo bello Facciamo la stessa strada dell'andata Quindi ripassiamo sempre da Pretoro Riscendendo a Serra Monacesca Mamma mia, sento un odore di porchetta allucinante mentre guido Ciao! 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 Seppone è andato in azione Se ne è rifatte due curvarelle e Stefano Manuale Sono contento Si è caricato Se ne è rifatto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sono appena ripartito da Portobello, salutato Stefano, mezzogiorno e venti, l'appuntamento con Manuela a mezzogiorno e mezza, quindi in perfetto orario. Vi chiedo di iscrivervi al canale, per voi è gratis, basta un clic, a me invece è dato un grande supporto. Allora, stavo facendo la chiusa ma ho visto che si è scaricata la batteria della GoPro, quindi niente, sono andato a prendere la mia ragazza e nel frattempo che aspettavo che scendeva ho cambiato la batteria, quindi vi dico che questo video finisce così. Se vi è piaciuto mettete like, se non vi è piaciuto o se avete domande scrivetemi tutto nei commenti che vi rispondo sempre molto volentieri. Cosa importantissima, iscrivetevi al canale, controllate per quelli già iscritti se YouTube vi ha lasciato l'iscrizione perché capita spesso che la togli e non si capisce per quale motivo, quindi ora ce ne torniamo a casa e ci mangiamo il bel panino con la porchetta. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Eccola! Era inaspettato, era inaspettato.